Meno chiacchiere e più amministrazione. Il sindaco di Venafro farebbe bene a pensare all'inefficacia della sua azione amministrativa, così il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo risponde a Nicantro Cotugno dopo le dichiarazioni sulla sua posizione politica. Il sindaco insiste Scarabeo farebbe bene a programmare e lavorare per il futuro di Venafro, città in cui le promesse elettorali sono state puntualmente disattese. La mia unica incoerenza politica, conclude Scarabeo, è stata quella di averlo appoggiato alle scorse elezioni, ricordandogli che senza i voti del mio gruppo oggi Nicantro Cotugno rappresenterebbe solo se stesso, forse.